Ok ragazzi, allora si può continuare qui su Marvel Avengers con l'espansione di Black Panther, siamo nel Wakanda ragazzi, quindi a questo punto io ho livellato un po' il mio personaggio, il mio Black Panther, no? Quindi come si può vedere 137 di potenza, livello 46 e credo che sia giunto il momento di andare, purtroppo credo che siamo alla missione finale di questa espansione ragazzi, mi dispiace dirlo ma secondo me siamo alla resa dei conti, quindi avvieremo questa missione, vediamo cosa ci aspetterà, vediamo se riuscirò a portarla a termine. Siamo arrivando nella montagna, Klo e i suoi seguaci si sono barricati dentro con i dispositivi Tius, insieme a loro ci sono anche Wakandiani, nelle miniere non c'è personale, il vibranio non elaborato è tossico per il corpo umano, e vorresti che noi ci entrassimo? Voglio Klo e i suoi uomini fuori dalle mie miniere, per il resto vi aiuteranno le nanopindole, se Klo accende quei dispositivi dentro la montagna, corromperà il vibranio alla fonte, non gli daremo l'opportunità. Ok ragazzi, allora io direi che possiamo avviare la missione, visto che mi dispiace, mi dispiace se siamo alla fine perché... La dottoressa Rappaccini avrà anche chiuso con Klo, ma non ho ancora finito con i luoghi. È così ragazzi. Ha mandato l'AIM a Birnenzana. Finché gli scudi perimetrali tengono, la città è al sicuro. Non possiamo permettere che Klo avveleni la montagna di vibranio. Molto molto interessante. Un Black Panther in grande livello, in grande spolvero, speriamo bene. L'ho livellato un po', vediamo un po'. Sì. Sì, perché non facciamo sapere a Klo che siamo arrivati? È educazione. Eh sì. Allora, è educazione. Eh, vediamo questa educazione dov'è. Andiamo, andiamo. Allora, allora, vediamo un po'. Eh, datemi tempo ora di capire qui, eh. Non mettetemi subito fretta. Devi andare lì, devi andare qui, devi fare questo. State buoni, state buoni. Vediamo un po'. Facciamo così ragazzi, che dite? La mettiamo in questo modo? Tutta poco il tempo è a disposizione qui, eh. Si pentiranno di aver sfidato Black Panther. Diciamo. Si pentiranno? Eh, speriamo bene. Il fatto che il tempo è a disposizione è minimo, ragazzi. Quindi? Maremma, che bordello. Speriamo bene. Vediamo un po'. Eh, sì, vabbè. Quindi? Niente, nulla. Maremma, che bordello, però dai. Sì, attiva e bypassa le serrature, certo. E quindi? Eh, attiva e bypassa. Sì, buonanotte, va. Ma quindi no, devo andare... Ah, devo andare a colpire io di persona, vabbè. Che stress, ragazzi. Che stress. Io dico che stress perché poi queste cose a tempo così... Mi portano stress. Però no, forse ho capito. Andava fatto una volta in questo modo, eh. Uomini, uccidete Black Panther e gli Avengers. Non fateli avvicinare ai Fuse. Dite? Sei già così disperato, Clo. Hai perso il tuo tocco. Continuate. Gli scagnossi di Clo non possono fermarci. Non ci vedo più, ragazzi, eh. Non ci vedo più. Ma dai, su. All'attacco, buonasera, sì. Ok, vai. Mi occorre un po' tenere... Ok, abbiamo ripreso un po' tutto, diciamo. Vediamo un po'... Maremma, che bordello qui, eh. Maremma, che bordello qui, ragazzi. E non so che boss mi aspetterà qui da affrontare. Quindi... Stiamo ben attenti. Perché veramente non so... Il boss finale che intenzioni avrà contro di me. Perché questo bisogna metterlo in conto, eh. Questo bisogna metterlo in conto realmente, ragazzi. E beh. Bisogna metterlo in conto. Il tuo viaggio finisce qui. Il mio viaggio finisce qui. Addetta da lui, sì, eh. Io non credo che ho... Questa intenzione. Mi dispiace per lui. Va bene. Dobbiamo sbarazzarcene in fretta. Vediamo un po'. Sì, vabbè. Dai, andiamo, andiamo. Andiamo. Cioè, ragazzi, qui è un po'... Confusionario questo... Uno in meno. Eh sì, uno in meno, sì. Vabbè, però... Insomma. Io dico insomma. Proviamo, va. Quindi siamo di un panirivello con i nemici. Perché compaiono con la scritta bianca. Vabbè. Ancora. Ancora che insistono. Va bene. Va bene. Uno è andato. È andato, sì, eh. Ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Grazie, grazie. Sono qui fino a giovedì. Eh sì, vabbè. Fino a giovedì, ok. Anche fino a venerdì o sabato, eh. Via, via. Eh, ragazzi. Qui bisogna... Picchiare in maniera pesante perché... Non si scherza, no? Non scherzano neanche i nostri nemici, quindi... Bisogna stare veramente attenti, eh. Da questo punto di vista... Bisogna stare molto, molto attenti. Allora, via. Andiamo. Perché non cadi verso la morte? Clo ha fatto qualcosa alle piattaforme fluttuanti. Basta un bel colpo per farle apparire, ma... Eh sì, un bel colpo. Non saranno stabili. Dovete fare in fretta. Dove andiamo? Dov'è il fius più vicino? Posso andare? Dov'è i filtri di vibranio? Preparatevi. Non sarà affatto facile. Un attimo, un attimo, ragazzi. Raccogliamo un po' qui. Ah, ok. Raccogliamo un po' tutto e andiamo via, eh. Raccogliamo un po' tutto e si va. Allora, dobbiamo arrivare a quel punto lì. Sì, devo trovare la strada giusta, eh. Datemi tempo, perché... Ok. Una bella cassa qui abbiamo, eh. Abbiamo una bella cassa. Uh. Allora. Sono abituato a prendere l'equipaggiamento... Eh, è dorato oramai. Allora. Ora bisogna capire dove... Ehm... Dove proseguire qui, ragazzi. Perché la situazione... Non è semplice. Vediamo un po' se è qui. Andiamo, vai. Eh, pian pianino, ragazzi. Un passo alla volta qui, eh. Un passo alla volta, perché di più non posso fare. Più di un passo alla volta non posso fare, ragazzi. Quindi ora date... E date una regolata. Non mettetemi fretta, perché sennò qui... Non faremo nulla di buono. Eh, quanto ci vuole. No. No, no, un attimo, un attimo. Grazie alle nanopillole che vi abbiamo dato... Ecco qui, vai. Questo non vuol dire che non dovete sbrigarvi. Le nanopillole addirittura? Ok. Le nanopillole. Stiamo andando. Siamo diretti verso le camere di filtraggio. Buoni tutti qui. Sto facendo io una strada secondaria per prendere i forzieri, eh. Tranquilli, non... Non pensate che mi sono perso, perché non è così. Sto facendo io... Un attimino una piccola deviazione. E forse ne farò anche un'altra, quindi... Ecco, togliamo il forse, perché lì abbiamo un'altra cassa e quindi il forse lo possiamo togliere. Ok. Andiamo. Ora possiamo proseguire avanti, ragazzi. Ora possiamo tranquillamente... Non so cosa mi aspetta qui, ma... Lo scopriremo. Lo scopriremo. Che cosa succede se tocchiamo quei cosi che brillano? Verrete scomposti in singole molecole. Perlomeno sarebbe una morte istantanea. Questo dovrebbe consolarmi? Allora... Vado qui. Sicuro che sia la strada più veloce? Non lo so. Ma dai! Ho capito che il Wakanda non può perdere, ma... Ragazzi, qui è difficile la situazione. Vediamo un po', eh. No, qui si chiama... Ui, 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 ciccio. Devo cercare un attimino qui di capire come funziona, perché... Quindi quello si abbassa. Un attimo, eh. Ah, ok. Bisogna... Ma dai! Che rottura, ragazzi. Che rottura ora qui, eh. Una rottura bella e buona. Ah. Vediamo un po'. Speriamo bene. Anche se non so se la destinazione è qui, eh. Potrebbe essere... O no? No, forse è questa, eh. Sì, eh. Forse... Ora io dico forse, ragazzi, perché oramai non so veramente più cosa... Cosa aspettarmi qui? Nel Wakanda è tutto strano, quindi... Ok. Maremma. Speriamo bene qui Maremma che bordello Vai Riprendiamo un po' di energia Un po' di vitalità E andiamo avanti Allora Mi sta dando un po' fastidio questo livello Però Ragazzi Mi sto comunque divertendo Se devo essere sincero Nonostante tutto Mi sto divertendo No ho sbagliato io Mea culpa ragazzi Mea culpa Ho sbagliato e vi dico perché Perché bisognava fare in questo modo qui Voilà Eh Le tempistiche qui sono un po' Allora Questo si abbassa Quello arriva lì Eh Ragazzi Ora devo fare un attimino Di mente locale Devo fare un po' mente locale Perché non è semplice Ecco Vai Dove si va Che boh Allora No ma da capo Ma veramente 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 da capo Speriamo bene Io dico qui speriamo bene Poi vediamo il resto come va Ma dai Eh no Allora Così si va sotto stress ragazzi Eh no così Eh no Così si va sotto stress Di che stiamo parlando Scusate Eh Di che stiamo parlando qui Via Eh no Qui ragazzi Mi manda No ho sbagliato Allora innanzitutto vado qui eh Fatemi ripristinare la mia vita Perché Non so se staremo fermi qui 26 ore O 27 Comunque Ok Ok vai No no Stiamo buoni un attimino qui Ok Ecco perché stavo sbagliando Prima ragazzi eh Era semplice Ma stavo comunque sbagliando Si Patetici Siete vicini al primo fuse Lo silenzio Ah al primo Lasciatelo parlare Devo monitorare il progredire Della sua follia Si Il progredire Della sua follia Ebbè Ok qui ora Ok mi dite un po' Cosa devo fare Oppure Attraversa Boh Forse qui E a questo punto ragazzi Allora Allora No no ora dobbiamo stare buoni eh Devo stare buono Allora Vabbè qui sembrerebbe facile Qui ragazzi La situazione Sembra Abbastanza Semplice Quindi Se mio padre Potesse Eh beh Ho il tuo vedere te Mio re Per lo meno Io potrei ancora guardare Mio padre Negli occhi Eh eh Questo è vero Questo è vero Via un po' Via un po' Eh questo è un livello Un po' È un po' Fastidioso ragazzi eh Devo dire la verità È un po' Fastidioso Però Con il giusto impegno Possiamo farlo eh Via Con il giusto impegno Secondo me ragazzi Possiamo farlo eh Allora Vediamo un attimino Eh sì Per il regno libero Beh Per il regno libero Ci mancherebbe Ai 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 D'accordo Ai 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 Qui si mette male Qui si mette male Qui si mette molto male Ma che devi strappare Ma che devi Ma cosa devi strappare Ma per cortesia Dai Fai il bravo Su Fai il bravo Ma cosa devi strappare Sono Spero abbastanza potenziato Ma Buonanotte E sogni d'oro anche Se vogliamo dirla tutta eh Buonanotte E sogni d'oro E beh Wow 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 Buonanotte Sogni d'oro Via Il vibranio Via 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 Ok Vai Allora No no Stiamo un attimino Buoni qui eh Siamo buoni Wakanda forever Via Andiamo 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 qui Ok Ok ora In alto In alto Sì sì ragazzi Ma tranquilli Perché sono Super abituato Ad affrontare Questi boss Qui eh Non Non li temo Proprio Cioè mi fanno Diciamo il solletico Diciamo che mi fanno Il solletico Sotto i piedi Va Sì E uno Via E due Vai Faremo anche tre Qui Ok Sì Devo andare in cima Lo so Sì Devo arrivare in cima Però eh Dobbiamo arrivare in cima C'è qualche Vediamo un po' Se c'è qualche Un modo Per arrivarci Un po' In maniera Più Più Tranquilla Vediamo un attimo Non c'è qualche Qualche catapulta Qualcosa No Bisogna salire Qui Ok Bisogna Salire da qui Ragazzi Ok Va bene Bisogna Far le cose Per bene Non c'è problema Vai Come ho sempre fatto Come ho sempre fatto Ragazzi Vamos Andiamo Ok Vai Che figata Ragazzi Che figata E state buoni Dai State buoni Non Allora Mi stanno Maremma Mi stanno Importunando Cioè Devo risalire Fino a sopra Maremma Ah no no Aspetta 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 Ah ok Non sono riuscito Ad andare Fino lì Però eh No Ok Ok Ora Sì Anch'io Un regalo Per voi Tempo Che torno Lì in alto E Poi lo vedete Insomma Il mio regalo Per voi Qual è Ecco qui Il mio regalo Per voi Rompere tutto Va bene Il mio regalo Per voi E rompere tutto Come è giusto Che sia Come è giusto Che sia Devo rompere Tutto Vai E andiamo Fin qui ci siamo Ragazzi Ok livello 47 Uh ragazzi Attenzione Vediamo un attimino Ah Bene Eh Questi qui Sono un po' Tosti Ragazzi Mi serve Una mano Qui eh Ragazzi Mi occorre Aiuto Mi occorre Un po' Di aiuto Ok Vai Eh Fuoco Eh Diciamo Ah Ne sono tre Da affrontare Bene Bene Sinceramente Credevo Ne arrivassero Un po' Di più Eh Però vabbè Questo è quello Che pensavo Però poi È andata bene È andata bene Così Diciamo Eh Eh Sì Ebbè Andiamo Andiamo Allora Vediamo Eh ragazzi Sono un po' Sì Saranno anche Un po' Tosti Ma Li posso affrontare Non li temo Insomma Ecco Non li temo Tranquillamente Tranquillamente Non li temo Ecco Non sono finiti Ah Non sono finiti Va bene Li finiremo Tra un po' Che devo dire Sì Va bene Dove andiamo? Qui Bene Eh sì ragazzi Qui si vede Qui si vede Che è la missione finale Purtroppo Si vede Si vede Ad occhi chiusi Si vede Scusatemi Ma si vede No no Si nota Si nota Che è la missione finale Perché è veramente Molto aggressiva È molto Allora State fermi un attimo Eh Eh sì No dai Allora Stiamo buoni un attimino Vado qui Vediamo se posso restare Ancora Vabbè ho capito Va Facciamo un passo per volta Tanto Facciamo un passo per volta Se no qui non se ne esce fuori Bisogna fare un passo per volta Diciamo Facciamo un passo per volta Vabbè Devono rallentare In qualche modo Mi devono rallentare In qualche modo Vediamo un po' qui Eh qui è tosta ragazzi Qui è tosta Sono sincero Qui è tosta Perché Perché No no Qui è tosta Ma dai Come lo facciamo Come lo facciamo qui ragazzi Questo punto Non credo Non credo che da qui Arrivo eh Ah no Ah no Arrivo invece Ah ok Ok E allora è più semplice E allora Ero io che come sempre Andavo a A complicarmi la vita Stavo dicendo Però forse Lì è troppo esagerato Saltare fino lì eh Forse Vediamo un po' Vediamo un po' Allora no Qui devo andare sul muro Per forza ragazzi Sono obbligato Secondo me Secondo me Qui sono obbligato Ad andare Sono obbligato Ad andare sul muro Eh sì Qui ero Più che obbligato Vediamo un po' Ok Vai Wow Non so se siamo alla fine Qui ora eh Clou Non ora Panther Shuri La barriera E i congegni Fuse Sono alimentati Dai generatori Della fornace Quindi posso collegarli Alla rete Kimoyo E farli autodistruggere Tuttavia Quando Clou Se ne accorgerà Distruggerà I generatori Cosa vuoi che facciamo? Proteggete I generatori Ad ogni costo E avvicinatevi Alla rete Che ci siete Ok? Voglio fare Un'altra cosa Ma che devi fare? Aiutami Mi daremo Quanto più tempo Possibile Mi devi Aiutare Allora Via Proteggi Qui Dobbiamo proteggere I generatori Giusto? Ma dov'è L'altrogena Madonna Maremma Che Ah eccolo qui Ok va Che bordello Ragazzi Non ho qui un bordello Vero e proprio E qui non si Non si scherza Ragazzi Questa missione Non si scherza Proprio Dov'è? Ah ok Generatore C è questo Bene Proteggiamolo Da questi Luridi Mostri Ciattoli Da strapazzo Ok? Andiamo A generatore A Che è Purtroppo In difficoltà Ragazzi Che vi devo dire Cosa vi devo dire? È in difficoltà Non ho tempo Di aprirle Casse Ci mancherebbe Non ho tempo Che bordello Ragazzi Eh ma se qui Non mi danno Una mano La vedo Ah ok Va Eh capitano America Qui ci potresti Pensare tu Io devo andare Non perché Non vuole aiutarti Qui ci mancherebbe È che Ci sono altri Due generatori Che sono in difficoltà Dov'è il B? Dov'è? Guardate qui Che casino Guardate qui Che casino Dov'è? Eccolo qui Ragazzi È super attaccato Questo è Questo è super attaccato Qui eh Via Su Generatore B Me ne sto occupando io Vedete voi Cosa dovete fare Ma del generatore B Me ne occupo io Ragazzi Anche perché Dobbiamo raggiungere Il 100% Lì Quindi non è che Non è Ancora Un'altra volta Un'altra volta Il generatore C Va bene Dov'è? Eccolo Lì giù Siamo tutto Questo casino Al 41% Ragazzi Eh Ditemi voi Se poi è semplice No Ditemelo voi Vai Andiamo Oh ragazzi Mi occorre una mano qui Eh Vediamo Cosa dobbiamo fare Vabbè Sì Facciamogli male Ma Eh Con le chiacchiere Non facciamo male A nessuno Eh Via Ok Vediamo un po' Ora Ma perché non sale Qui adesso Ah ok Vai Non ditemi Non ditemi che si è Buggato qualcosa Ragazzi Perché veramente Vado In escandescenza Eh Non ditemelo Perché vado In piena Euforia Ve lo dico Ve lo garantisco Più che altro Quindi Lì rimane fermo Al 41% Speriamo bene Allora In squadra Ragazzi Facciamo bordello In squadra Veramente Non ci facciamo Sovrastare Non ci facciamo Sovrastare Da nessuno Qui Quindi Vai 50% Ragazzi Ok Ora Dove si va Dove si va Ah la prossima Ondata Abbiamo Vabbè Abbiamo la prossima Ondata Di nemici Va bene Dove sono Ah Eccoli qui Vai Che belli Che belli che sono Però Ebbè Ora qui Dobbiamo difendere Ragazzi Siamo al 58% Mica male Mica Mica male Allora Andiamo a difendere Un attimino Dov'è E qui ragazzi Sale Pian pianino Sale Non è che La nostra difesa Sale E abbiamo Abbiamo ancora Il boss principale Da affrontare Quindi questo Gameplay Do era ancora Dal mio punto Di vista Do era ancora Abbastanza Poi vediamo Insomma Ok Ancora Che sono lì Allora Guardate Qui che casino Ragazzi Guardate Che casino Qui eh È un casino Punto Vai Maremma Qui al Percussore B Insomma È veramente Un bordello Bordello Totale Totale Bordello Qui ragazzi Andiamo Andiamo Ecco Sono arrivato Scarafaggi Sono arrivato Per sistemarvi Per sistemarvi Uno ad uno Quindi Ce la faremo Bah Speriamo di sì Speriamo di farcela Perché Secondo me ragazzi Non è che sarà Così semplicissimo E dove andiamo Vai 83% Andiamo al Sì è il B Che il C È Sotto attacco Vabbè uno vale l'altro A questo punto Perché A questo punto Ragazzi Uno vale l'altro Dobbiamo difendere Tutto Allora Stiamo tranquilli Ok Ok Allora Vediamo un po' Eh sì Annientiamoli Ragazzi Però qui Eh Siamo un po' In difficoltà In estrema Difficoltà Qui Sono in estrema Difficoltà Se nessuno Mi dà una mano No Gli uomini Di clou Controllano Uno degli alimentatori Sì Quale Eh Vabbè Allora Ragazzi Di questo passo Non va bene No no Di questo passo Saremo sconfitti Mi dispiace Se non mi date una mano Qui ne usciamo male Ne usciamo male Qui ragazzi Se non mi date una mano Sì ma mi date una mano Vabbè Ditemelo voi Non mi danno una mano Ragazzi Che devo fare Che devo fare Se non mi danno una mano Qui Cerchiamo di ripristinare Qui Almeno Dobbiamo Cercare di ripristinare Qui in questo modo Vai Si Vabbè Qui non l'ho ben capita Ora la cosa Io Non l'ho Ben capita Ragazzi Vediamo un po' Qui se posso Riprendere Il comando Dov'è il B Dov'è qui Vai Difendiamo ragazzi Difendiamo Non ce l'ho fatta Missione fallita Che stress Che stress Che stress Che stress Ragazzi Da dove li prendo State tutti bene Sì tutto bene Da capo Abbiamo raggiunto La porta degli alimentatori No vabbè Da capo ragazzi Ma che stiamo Veramente La follia Qui eh Clou No no Ora Panther Shuri La barriera E i congegni Fuse Sono alimentati Dai generatori Della fornace Quindi posso Collegarli Alla rete Kimoyo E farli Autodistruggere Tuttavia Quando Clou Se ne accorgerà Distruggerà I generatori Cosa vuoi che facciamo Proteggete i generatori Ad ogni costo E avvicinatevi Alle sue torrette Già che ci siete Ma se non ce la faccio Voglio fare un'altra cosa Shuri Pensa agli alimentatori Ti daremo Quanto più tempo possibile No Fermateli Credo che mi abbia scoperto Se non mi aiutate Come si deve ragazzi Eh eh Se non mi aiutate Inutile Inutile Vabbè andiamo Iniziamo a subire Iniziamo a subire Già da adesso No questo è il B Dobbiamo andare là Hanno al C ragazzi Maremma Bordello totale Ah anche qui Va bene Va bene Che stress Che stress Questa missione Che stress ragazzi Devo ammettere Devo ammettere Che questa missione Mi sta mandando Sotto stress Speriamo bene Allora dov'è Dov'è il campo Se Vabbè Un attimino Tanto Tanto devo far Tutto da solo Ragazzi Nessuno Che arriva In mi aiuto Quindi Posso far Tutto subito E no Da solo Non posso Da solo Purtroppo Crea molta Molta Difficoltà Però vabbè Dai E non so Cosa aspettarmi Dalla boss fight Finale Perché a questo Punto A questo Punto Veramente Ragazzi Non so Cosa Aspettarmi Dalla boss fight Finale Se devo Essere Sincero Quindi Avrò Molta Difficoltà Secondo Me Si Secondo Me Ragazzi Purtroppo Avrò Un bel Po' Difficoltà Vediamo Ok Tanto Qui Se Non Vado Io Non Arriva Nessuno Quindi Facciamo Le cose Come si deve E va bene E così Vai Andiamo Via Affrontiamoli tutti Perché danno fastidio Vai Affrontiamoli tutti Comunque È una missione Veramente Impegnativa Questa È una missione Veramente Impegnativa Sono contento di questo Perché un po' Di difficoltà Non guasta Non guasta Però Dico Però Se inizia ad essere Troppa Poi Dà un po' Fastidio Vabbè Però È anche giusto Che un po' Di difficoltà Ci sia Ragazzi Altrimenti E andate Andatevene 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 Su Ma perché Non arrivano Anche gli altri miei colleghi Qui ad aiutarmi Non li vedo Non li vedo Ragazzi Nessuno Corre Viene In mio Aiuto Qui Vabbè Nessuno Che arriva In mio Aiuto Ah ok Sono arrivati Adesso In ritardo Ma sono arrivati Vai Nemici Sconfitti Siamo a metà Della Di questa missione Ragazzi Vabbè Cercheremo Di capire Come fare Cercheremo Di capire Come fare Ci proverò Speriamo Sicuramente Ci proveremo Poi vediamo Un po' Vediamo Un po' Il resto Qui No ma Non mi interessa L'equipaggiamento Adesso Ora mi interessa Portare a termine Questa missione L'equipaggiamento Poi posso far loot Ripetendo le missioni Alzando il livello Ma a questo momento Ragazzi A me interessa Solo portare a termine La missione Sono sincero Sono sincero Quindi Del loot Non mi interessa Vai Andiamo Vai Vamos Ragazzi Datemi una mano Qui Qualcuno Arrivi qui Per cortesia Dobbiamo essere Veloci Tempestivi A far tutto bene Abbiamo visto Prima cosa è successo Quindi Ancora Vabbè Ragazzi Ripeto Sono tosti Qui Sono tosti Qui La missione Veramente È tosta È tosta Però con Con il ritmo Giusto Secondo me Possiamo Possiamo affrontarla Con il giusto Ritmo Ma Soprattutto Con i giusti Aiuti Quindi Vediamo un po' Vediamo un attimino Bene Siamo all'83% Ragazzi E Attualmente Sembrerebbe Che in confronto A prima Sono messo meglio Forse perché Lo sto facendo Con un po' Più adrenalina Sono un po' Più adrenalinico Diciamo In questa Sto riprovando Allora Via 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 Devo andare qui Ragazzi Eh sì Oh ragazzi Mi occorre una mano Che facciamo Qualcuno arriva In mio soccorso Qui Vediamo un po' Ok Dai Mi occorre Aiuto Maremma Che bordello Dai Speriamo bene Questa volta Speriamo bene Qui eh Speriamo veramente Bene ragazzi Allora vai Buttiamolo giù Altrimenti No no Buttiamolo giù Adesso Altrimenti Poi lo ritroveremo Più avanti Quindi meglio Buttarlo giù Adesso Non è che Anche perché Questo qui è tosto E fa anche molto danno Quindi Andiamo Maremma Qui ce ne sono Ragazzi Qui ce ne sono No questi vanno lì Vanno ad attaccare lì Vanno ad attaccare lì Ho già capito Cosa vogliono fare Ho già capito Dove vogliono arrivare Ho già capito Quello che vogliono fare Ragazzi Dai Io l'ho già capito Blocchiamoli Adesso Mai più Via È complessa Qui la missione Qui ragazzi La missione Un po' Non è facile Non è facile Dobbiamo Ho qualche dubbio Che anche questa volta Riuscirò a portarla a termine Ho qualche dubbio Mi sento un po' In difficoltà Mi sento In difficoltà Sono in difficoltà Devo essere sincero Maremma ragazzi Datemi una mano Però dai Eh sì Ho capito Gli alimentatori Vabbè Ecco Questo qui è andato Questo qui Ragazzi è andato Ma questo qui è andato Però Speriamo bene Vai Ce l'abbiamo fatta Questa volta Vai Questa volta Ce l'abbiamo fatta Ragazzi È stata tosta È stata tosta È stata tosta Qui È stata Complessa E adesso Hai ragione In effetti Il vibranio Non è mio Non credo sia finita così Fratello Ci serve qui Che succede È l'IM Attaccando lo scudo Intorno a Birnizana Ancora Ancora Ma veramente ancora qui Ancora ragazzi Quanto è grande Questa unità Che attacca la città Grande Non sono seguace di Claw Sono dell'IM Finché lo scudo regge La città è al sicuro No? Sì Ma il Wakanda Non è solo Birnizana Dobbiamo liberarci Di tutti gli invasori Nel Wakanda Con piacere Vai Uscite Presto Ora siamo alla fine Qui secondo me Ragazzi È una missione Troppo Troppo impegnativa Per non essere la fine Dai Raccogliamo tutto qui Perché È meritato Raccogliere tutto Vediamo un po' Cosa mi attende qui Eccoci qua ragazzi Vai Sapevo io Lo senti Nelettro 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 Mio Nelettro Nelettro Shuri! Rosporus Vedi quello che vedo io? Lo vedo. Il vibranio ha fatto pezziclo. È pura... energia sonica. Come sconfiggo un uomo fatto di suono? Se... se invertissi la polarità degli attenuatori sonici nel Wakanda, forse potrei amplificare il suono. Con la giusta lunghezza d'onda, risuonerebbe con le onde soniche che compongono Clo. Lo batterai. Per ottenere una potenza simile dovresti... dovresti annullare gli scudi intorno alla città. Finché non riuscirai a battere Clo, il Wakanda saprà difendersi. Credi nel tuo popolo. Credi in me. Ci credo. Nooo! Fratello, ora! Credo che la tua città si stia rilassando troppo. Toccialla! Ha rivolto le torrette contro la città! Non per molto! E' sosta qui, ragazzi, eh! Non ho ben capito cosa fare, ma va bene. Va bene così, ragazzi, tranquilli. Ok, speriamo bene. No, lì ci sono le barriere, attenzione. No, ci sono le barriere lì. Eh, bisogna fare un po' attenzione. Ho ben capito cosa bisogna fare. Purtroppo ho capito, ma... Devo stare attento. Devo stare molto attento. Via! Ehi, Wakanda, ebbe. Ebbe. Sì, cosa? No. Eh, basta, su. Ancora. Eh, sì, continua così, però... Non è semplice continuare così, eh. Eh, sì, ora basta, vai. Ora basta il sacco di patate qui, eh. No. 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 Ma uno è andato, ragazzi. Eh, sì. Eh, sì, vabbè, io tengo duro il Wakanda lotta con me, ma... Anch'io rotto con lui, ma non è semplice. Non è semplice. Ma, Remma. Chi mi aiuta, ragazzi? Grazie, Cap. Grazie, grazie. Difficile qui, ragazzi. Veramente complessa la situazione, eh. La situazione qui si fa complessa. Non è facile. Non è... Eh, non è facile, punto. Se dico che non è facile, non è facile. Allora... Sono due nemici veramente... fastidiosi, perché sono fastidiosi, però... Non dobbiamo tirarci dietro, dobbiamo affrontarli, ecco, quindi... Eh, basta. Eh, vediamo un po'. Vediamo un po' come cambia adesso. Come è missione fallita? Perché? Missione fallita, perché, ragazzi? Perché? Mi dite perché è missione fallita? Uscite! Presto! T'Calla! Quelle torrette stanno diventando un problema! Fallita? Per quale motivo? Oh, ragazzi, mando avanti... Ragazzi, in cui diciamo, tanto l'avete vista. È inutile che... Mandiamola avanti, l'avete vista prima. La posso mandare avanti. Allora, voglio saltare... Non posso. Ah, ok, vai. Possiamo saltarla. Non ho ben capito il perché è andata male. Va bene. Non ho ben capito cosa sia successo, perché... Perché ho perso. Riproviamo. Ci vogliamo riprovare. Eh, penso di sì. Penso proprio di sì. Credo proprio di sì. Per faintemente. Con fuori le unieure. Non sa via. Non cederai. Continua a combattere. Non ho ben capito Perché ho perso prima Sinceramente non Ho qualche mio collega Era passato a miglior vita Ma non credo sia quello il problema Eh sì, cosa devo fare? Dimmi un po' cosa devo fare Perché io sinceramente Non sono al corrente di questo Ok, continua così Va bene No? Via Via Quelle torrette non le capisco Ho capito perché ho perso ragazzi No, non l'ho capito perché Allora ragazzi Io provo un'ultima volta Dopodiché interromperemo qui il gameplay E andremo avanti nel prossimo Perché sinceramente non posso stare qui dieci ore Quelle torrette stanno diventando un problema Sì ma come le affronto le torrette Lì ho capito che forse il problema Sono loro ma Hanno una barriera intorno Hanno una barriera intorno Ok, posso mandare avanti Non capisco Ok, non capisco Queste torrette come le posso sconfiggere Ok Non capisco come le posso Sconfiggere Questo è il problema Sì ok Io continuo a combattere Ma Abbiamo un problema qui ragazzi Abbiamo un grosso problema Abbiamo un grandissimo problema qui Queste torrette Vabbè Ed è un gran problema seriamente Sì ma Ah, un attimo Vediamo un po' Ok Si sono aperte ora Ah Ah Quindi ad un certo punto Le torrette si aprono E bisogna colpirle Ottimo Ottimo Allora forse adesso Riesco a capire come fare Voglio ben sperare Voglio ben sperare Dobbiamo togliere Dobbiamo togliere Dobbiamo togliere la barriera Le torrette Ancora Ancora Via Eh sì Eh beh Tutto il Wakanda Lotta con me Eh beh Vai Ok ragazzi Abbiamo capito Forse 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 abbiamo capito Le torrette vanno eliminate Ok vai Eh basta Su fermati Finitela Mi state facendo Innervosire E non è un buon consiglio Eh ve lo posso garantire Allora le torrette Sono ancora lì Eh Ne abbiamo altre tre Purtroppo Hai visto? E non mi fai paura Non mi fai assolutamente paura Ci mancherebbe Anzi Vai Torrette Scoperte Certo Ho capito Ragazzi Come bisogna Mi sto divertendo E anch'io A farti sentire Un po' Il dolore Mi sto divertendo Eh Eh sì Ho capito Come fare il boss Ragazzi Ho capito Per me Per me Per me è un po' Troppo Ah ok ora Si è potenziato Può essere Via la torretta Da lì Butta le giù Vai andiamo Le torrette Sono andate giù Ragazzi Ok Eh ora è tosta Però eh Eh ora è Ora è complessa Qui La situazione Ora è veramente Complessa Eh sì Speriamo bene Speriamo bene Ora è tosta Qui ragazzi Vai Via Eh sì Wakanda Sì Combatte per me Però Dico Però Eh Ora diciamo Che I colpi Sono pesantini Gli attacchi Che Porta segno Ora sono Un po' Pesantini Sono un po' Pesantini Ragazzi Eh No Eh nel Wakanda Ci siamo Qui eh No Via 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 No No Andiamo Via 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 Non è semplice Ragazzi Questo è Incazzatissimo Adesso Bisogna Schivare Molto Bisogna Schivare Molto Qui eh Però Ora Possiamo Farcela Credo Che abbiamo Il ritmo Giusto Per buttarlo Giù Eh Diciamo Che forse Sta accusando Il colpo Via Sembrerebbe Che stia Accusando Il colpo Sto sudando A fare Questa Boss fight Vi dico La verità Ragazzi Sono Non è semplice Non è semplice Via Andiamo qui Vai Non è semplice Dai Però ora Devi finirla Ragazzi Allora Adesso O noi O lui O vinciamo Noi O vince lui Non c'è una via di mezzo Eh Eh no Tosta ragazzi Tosta Tosta Da capo Oh ragazzi Mi dispiace Ma Devo rimandare Al prossimo gameplay Purtroppo Eh purtroppo È così È stata un po' Complessa Vediamo un po' Qui Ok Questo cosa fa Ok Vediamo un po' Qui Qui Vai Lasciamo così E ragazzi Io credo che vi do appuntamento A questo punto Al prossimo gameplay Perché Non è il caso Ripeteremo tutto Nel prossimo gameplay Vi ringrazio di cuore a tutti Speriamo di farcela Perché è una boss fight Veramente Bella tosta Ciao a tutti E grazie per il vostro supporto Purtroppo Si può anche perdere Ma nel prossimo gameplay Faremo tutto Ciao ragazzi Grazie a tutti